Il mio sesso aspetta eh vai tutto ma non il sasso sei matto di lì sta accendendo la mano il sebe eh non diglielo a nessuno ma Simone me l'ha chiesto mi fa ma i tuoi un protone diritto lo fanno? eh certo te lo fanno perché non lo devono fare eh ma guarda che è così è un pezzo corto sì allora andiamo beh non diglielo a nessuno perché poi mi ammazzano eh adesso andiamo